salta il calicello diamo cazzo saltiamo calicello vai noi siamo ladri professionale no di là lascio il babbo dai quello lascio stare devi caricare un po dove dov'è non c'è la guarda la guarda la guarda la guarda la guarda la guarda il colore che usa mafiasi mafiasi due mafiasi narcos fra quelli si chiama narcos vengono droga o c'è una donna nuda bro no scherzo andiamo in piscina dai io ne facevo parte prima giusto e poi mi venivo oggi ti prego ah che bello piscinozzo minchia si l'ho fatto lo so io non lui noi siamo capi di narcos che bello ma io non ho soldi mi hanno rubato ieri soldi ora se vieni su italia va bene bro vengo 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 è andato giù perché non mi va più oh si va prendo roba bevuta cazzo dai noi siamo capi di mafia why you why you guarda io sono boxer guarda allora che c'è da bere qua un cazzo non hanno lasciato nulla una mafia povera questa mafia povera dov'è da bere oh dov'è roba da bere perché non c'è un cazzo qui perché mafia è quella se non c'è un cazzo da bere cazzo andiamo in jacuzzi dai questo è il jacuzzi siiii ma perché non ce ne sono dentro va bene bro andiamo a cercare il capo di mafia uccidiamo e diventiamo mafiosi noi chiudete roba dai oh c'è uno c'è uno che cazzo raga io sono nascosto eh io sono una pianta sono una pianta sono una pianta raga ma non ho soldi bro non ho soldi eh non potrebbero stare là come no è una casa è scavalcato è tutto libero ora sono una pianta guardate non si vede niente cazzo sono una piantone cazzo non c'è nessuno però affanculo me l'ho andata a sbiriche oh come si esce da qui aiuta aiuta mi vogliono ammazzare aiuta mi sento male i boss chiamano walter raga che metagame assurdo vado lì dico io sono walter bella bella casa mi è piaciuta bella casa di una mafia che non mi hanno fatto un cazzo easy bro easy abbiamo fatto in bagno in casa di mafia è bello bello andiamo a andiamo a 200 vai oh c'è una macchina lì bro andiamo via 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 sono mafiosi questi mi vogliono ammazzare aiuto scappa 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 ah che male ah macchina non si ferma macchina bloccata aiuto aiuto che male vai andiamo si dovrebbe andare a farla via ma che mi becca mano io non ho paura di nessuno bro il capo di si cambia da IRP a GTA online no perché guida tu no guida lì metti la via fermo vai 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 c'è qualcuno oh ciao bello bella macchina vai più avanti fermo no vaffanculo questo va bene oh che è macchina di Michael allora signora io sono siamo oh diamogli ma sono tutti chiuse bro sono tutti chiuse bro tutto chiuso cazzo io voglio una macchina tutto chiuso ma che non è trivigiali è un altro quello del fegato tutto chiuso ma perché chiudete le macchine raga noi ci siamo come noi cerchiamo una macchina non chiudere le macchine questo che c'è là 138 dei vagos bello diamo dei vagos e dici guarda anche noi abbiamo una macchina arancione possiamo entrare si 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 andiamo andiamo speriamo che non mi fermano sbidi prima ma frega è un cazzo blocco stradale blocco stradale diamo 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 allora ascoltava ora vai titta dritto o c'è la testa no no fermo io voglio questa macchina fermo dove cazzo stai andando io voglio questa oh che cazzo sono scemo dai dammi questa macchina di merda bro facciamo una cosa vieni dentro oh vieni dentro lavoro oh bratello volete lavoro lavoro poi lavoro io sono camionista sono già lavorato sto lavorando come si apre i porti bro mi pare M no non c'è non va M qua F5 si F5 ci sta nel veicolo mi sembra magari si apre il bagaglio si apre il bagaglio vai bro vai monto dietro vai monto dietro ragazzi scendete devi scendere devi scendere devi scendere fatto vabbè scende che fai vieni a prendere quest'altro sali su quella macchina vai vai salgo sulla macchina aspetta che cazzo fai vabbè scendere 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 la prima 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 la prima